Grazie per essere venuti, io sono Giovanni De Rose, sono il Presidente dell'Arci per i tanti che non mi conoscono. Ringraziamo Sergio Cofferati che ha accettato l'invito della nostra associazione a confrontarsi con noi e a spiegarci alcune questioni di cui spesso leggiamo sui giornali e che invece quando poi le sentiamo dalla voce in diretta sembrano leggermente diverse. Mi riferisco alla questione sugli orari dei negozi, degli esercizi pubblici che molti di voi, di cui tutti noi abbiamo letto sui giornali. Ecco, io una sera ascoltando Sergio Cofferati alla festa dell'unità mi sono reso conto che c'era uno scarto grandissimo tra ciò che leggevo sui giornali e il modo come venivano poste alcune questioni e quelle che poi erano le reali intenzioni, le riflessioni del Sindaco e della Giunta sulla regolamentazione degli orari degli esercizi pubblici essenzialmente nella parte, diciamo così, di città del centro storico. Allora, noi sappiamo che c'è una situazione complicata, complessa per chi vive in centro, non solo per i residenti ma anche per gli operatori commerciali e non solo per i residenti e gli operatori commerciali ma ci sono anche alcuni compagni di circoli che lavorano anche fino a tardasera che ci segnalano una situazione complicata, nel senso che molti cominciano a dire che obiettivamente è pericoloso anche solo lavorare di sera insomma si presenta una situazione che richiede necessariamente degli interventi. Ecco, nelle parole del Sindaco quella sera alla festa dell'unità e anche nell'incontro che abbiamo già fatto in un altro circolo Arci del centro storico e, diciamo così, sono emerse una serie di riflessioni per cui ognuno di noi può fare qualcosa per cambiare, migliorare, provare ad intervenire su una situazione che non ci piace. Abbiamo visto che c'è un confronto piuttosto aspro che si consuma più sulle pagine dei giornali insomma che negli incontri con le associazioni dei commercianti, con due associazioni di commercianti, ASCOM e CONFESERCENTI e insomma noi vorremmo da una parte sentire direttamente dalle parole del Sindaco qual è lo stato dell'arte su questo tema perché come cittadini consumatori che vivono in questa città siamo anche parte in causa dall'altra parte vogliamo anche capire se e cosa come cittadini ma anche come circoli e associazioni di circoli possiamo dal nostro punto di vista provare a fare ancora di più di quanto i nostri volontari non facciano già. Ecco, quindi io vorrei esclusivamente, anzi passerei immediatamente la parola a Sergio Cofferati che introdurrà, diciamo così, la sua riflessione. Poi se ci saranno persone che vorranno chiedere, intervenire, chiedere informazioni, delucidazioni o dare suggerimenti benvengano, alla fine sarà lo stesso Sindaco che replicherà. Per cui io non la faccio più lunga di tanto perché voi siete venuti per ascoltare il Sindaco e non me quindi gli passo immediatamente la parola. Intanto vi ringrazio e ringrazio voi per essere venuti e lui per aver accettato il nostro invito. Sergio Cofferati Grazie per l'occasione che mi viene data di poter parlare con voi e nei limiti di quel che sarà possibile anche fornirvi elementi di conoscenza e di valutazione su cosa sta succedendo e su cosa intendiamo fare. Primo, qual è il problema? Il problema è fissare gli orari dei laboratori artigiani, dei negozi commerciali e dei locali pubblici con un provvedimento dell'amministrazione che si rende necessario per dare agli operatori certezza su quel che devono fare e su quali sono le condizioni dentro le quali possono agire. Nel mese di luglio, per il solo centro, abbiamo emanato un provvedimento che aveva come obiettivo era un provvedimento temporaneo, di fatto è scaduto al 30 settembre, di provare a dare una risposta positiva ad una serie di difficoltà che sono arcinote e che non a caso rappresentano un po' le sofferenze del centro di Bologna. Il provvedimento riguardava i laboratori artigiani e i negozi e ha provato con successo a limitare l'attività di vendita per asporto di alcol o di bevande in bottiglia in lattina. Perché? Qual è il problema che ci siamo posti? Il problema che ci viene indicato da molte persone. Quello laddove c'è una concentrazione molto grande, non direi di ragazzi, anche se poi in prevalenza sono ragazzi, ma di persone che consumano, che si possa determinare in virtù di un eccesso di consumo di alcol, delle bottiglie o delle lattine che vengono abbandonate, una situazione di disagio. Che può essere data dal fatto che poi chi beve supera una certa soglia di sopportazione individuale a comportamenti troppo vivaci e dal fatto che il vetro non solo sporca, ma quando viene abbandonato o si rompe rappresenta anche un pericolo. Se poi le due cose si mettono assieme capite che il rischio aumenta ancora. Il rischio di avere c'è una condizione che viene oramai nel linguaggio comune chiamata di degrado. Abbiamo fatto questo provvedimento per limitare non il consumo, che non è possibile se uno vuole bere, beve, né l'attività dentro i locali, ma evitare che ci fosse una vendita per asporto e dunque che si potesse consumare all'esterno con le conseguenze che vi ho appena descritto. Il provvedimento ha dato risultati interessanti, giudicati positivamente non soltanto da noi, ma anche dagli abitanti della zona del centro, che invece in varie circostanze, in varie forme, avevano protestato. Oggi dobbiamo emanare un provvedimento, perché quello è scaduto, che deve riguardare l'intera città, non più soltanto il centro storico, e deve regolare nei limiti della legge nazionale gli orari dei negozi di artigianato alimentare, per capirci le pizzerie per asporto, le gelaterie, quelli cioè che producono e vendono. Regolare i negozi alimentari, anche qui per capirci tutti coloro che vendono alimentari, dai fruttivendoli ai generi alimentari di varia natura, e i locali pubblici, quelli che sono aperti di norma, soprattutto la sera. Che cosa pensiamo di fare e che cosa abbiamo proposto alle associazioni? Pensiamo di fare un unico provvedimento nel quale cercare di introdurre delle regole che riducano, l'ideale sarebbe azzerare, i problemi che ci vengono segnalati come problemi importanti per molti, delicati da risolvere, e che con quel provvedimento temporaneo, relativo peraltro soltanto ai laboratori artigiani e ai negozi tra luglio e settembre, siamo riusciti a contenere con interesse da parte di tutti gli abitanti del centro storico che attraverso le loro associazioni o anche singolarmente hanno apprezzato non il provvedimento, ma gli effetti conclusivi del provvedimento. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo convocato le associazioni, abbiamo descritto loro sommariamente quali erano le intenzioni dell'amministrazione chiedendo disponibilità ad un confronto di merito relativo ad una idea di approccio al tema e poi di traduzione dell'approccio in una norma così congegnato. Abbiamo detto, stabiliamo insieme, anche se poi la responsabilità come ovvio è dall'amministrazione, l'orario di chiusura nell'ambito di ciò che prevede la legge e fissiamo un sistema di deroghe a quella regola generale per coloro che accettano di realizzare azioni positive relativamente a temi come la pulizia, non soltanto dei locali ma degli spazi antistanti, al rumore e alla sicurezza. Lo dico perché se è scritto, se è detto ma vogliono trasformare Bologna in una città chiusa. No, lontano da noi quest'idea. Bologna deve restare una città aperta, gli orari e i comportamenti connessi agli orari devono essere tali da aiutare le persone che vogliono vivere la notte in un locale a farlo tranquillamente, esattamente come coloro che vivono sopra quei locali a poter dormire serenamente senza problemi particolari o non avere intorno situazioni di degrado fastidioso. Le associazioni hanno deciso che questo impianto di ragionamento non era di loro interesse e dunque non hanno voluto partecipare ad una discussione che aveva le caratteristiche che vi sto illustrando. Abbiamo detto con tutta la serenità del caso che il comportamento delle decisioni delle associazioni era del tutto legittimo, l'amministrazione non può obbligare nessuno, ognuno è libero di fare quello che vuole sul piano dei comportamenti nei rapporti con l'amministrazione ma che non potevano pensare che di fronte alla loro indisponibilità noi saremmo rimasti fermi. Avremmo comunque fatto il provvedimento e avremmo anche lì rispettato la legge comunicando prima della scrittura definitiva del provvedimento le nostre intenzioni addirittura rendendo noto il testo del provvedimento stesso. Due delle associazioni che sono state coinvolte perché per quanto riguarda i laboratori artigiani sono le associazioni di artigianato, per quanto riguarda il commercio ci sono tre associazioni, due delle associazioni del commercio hanno successivamente a questo primo incontro e alla loro indisponibilità ad accedere allo schema di ragionamento che gli abbiamo proposto deciso di promuovere una manifestazione. La manifestazione è stata proclamata senza nemmeno che ci fosse, perché non c'è ancora adesso, il testo del provvedimento. Avendo qualche esperienza di queste cose ho detto pubblicamente, ripeto anche a voi, che non ho mai visto nulla di tutto ciò in vita mia, è la prima volta che mi capita di vedere un'azione di contrasto ad un provvedimento che non c'è, però c'è sempre una prima volta. La manifestazione dichiarata poi è una manifestazione politica, non sindacale, perché due associazioni possono promuovere manifestazioni di qualunque natura, però se la manifestazione ha un obiettivo di merito che riguarda la tua rappresentanza, rappresenti i commercianti, a manifestare chiami i commercianti, non i commercianti e tutti i cittadini, prassi che invece è abituale per i partiti, ma non per le associazioni di rappresentanza. Di più, come vi capiterà di vedere, nei manifesti, nei volantini che vengono utilizzati per promuovere la manifestazione, si fa riferimento a dieci cose diverse, c'è il degrado, ci sono gli orari genericamente intesi, c'è Sirio, ci sono i Deor, c'è l'universo mondo, non c'è l'oggetto della discussione, capisco anche perché se scrivessero in esatto quello che si sta discutendo, presumo che non avrebbero il, dal loro punto di vista, auspicabile livello di partecipazione. Dunque loro mettono in campo un'idea che è tutta politica, non è sindacale. Guardate che anche di questo io non mi scandalizzo, saranno loro poi a dover giustificare il perché e il per come una manifestazione promossa per ragioni che dovrebbero riguardare gli orari, diventa altra cosa, diventa oggettivamente un'iniziativa di contrasto dell'amministrazione, delle sue scelte, della sua idea di città, perché c'è tutto, non manca niente in quel manifesto salvo specificare il problema degli orari. Allora che cosa stiamo facendo? Delle cose molto semplici, abbiamo detto della nostra intenzione, abbiamo fatto quella proposta, abbiamo come annunciato poi proceduto, abbiamo convocato tutte le associazioni, abbiamo avuto l'altro giorno l'incontro con gli artigiani, abbiamo illustrato agli artigiani qual è la nostra intenzione, perché gli artigiani e non gli altri. Nel mentre, dopo aver rifiutato nel primo incontro una discussione sullo schema che vi ho illustrato prima, le quattro associazioni, due del commercio e due dell'artigianato, si sono riunite e hanno scritto un documento inviato all'amministrazione con delle loro ipotesi di intervento su quei temi. Benissimo, anche questo credo sia non soltanto azione legittima, ma devo dire per qualche verso addirittura utile, che si mettano insieme e ragionino delle condizioni in essere, è cosa che può solo aiutare lo sviluppo dei rapporti futuri. Poi hanno chiesto di essere convocate insieme, ho risposto no, per due ragioni. La prima, gli artigiani, le associazioni artigiane devono rappresentare gli artigiani, non i commercianti. Se si confonde la rappresentanza si crea un danno alle relazioni, non è che ho contrarietà, difficoltà a parlare con chi che sia. Stasera l'Arce mi ha chiesto di venire a parlare con voi, parlo con voi così come parlerò con tutti. Tenete conto che li abbiamo convocati tutti, ma distintamente. Alla richiesta, convocaci assieme, che parliamo del tema tutti insieme, ho risposto no per due ragioni. La prima è questa. Gli artigiani, è giusto che discutono dei problemi che riguardano gli artigiani, i commercianti devono discutere dei problemi che riguardano i commercianti. Agli artigiani ho detto che per quanto riguarda le loro attività sono i laboratori artigianali, vi ho fatto prima due esempi, pizzerie da sport oppure gelaterie, vale la Bersani, la legge Bersani come regola. Cioè loro possono tenere aperte queste attività 24 ore al giorno. Non c'è nessuna limitazione relativamente all'apertura. Mentre invece introdurremo una limitazione per quanto riguarda la vendita di alcol o di bibite in bottiglia o in lattine. Non consentiremo che vengano vendute per asporto dopo le 10. Poi incontreremo successivamente anche le associazioni dei commercianti. Le incontreremo successivamente, da un lato per il motivo che vi ho appena detto, dall'altro perché siccome c'è una manifestazione, io non ho nessuna intenzione di interferire con quella manifestazione e ancor meno di condizionarla. L'11 c'è la manifestazione, l'11 mattina incontreremo l'associazione che non ha promosso la manifestazione. I promotori della manifestazione li incontreremo il 13. Dunque, l'amministrazione parla con tutti. Facciano serenamente la loro manifestazione, che è una manifestazione a questo punto che ha una piattaforma politica, ostile all'amministrazione perché si prefigura non una soluzione diversa sugli orari, ma un modello di città, si dice, diverso da quello dell'amministrazione. In democrazia tutto ciò è lecito, il 13 li incontreremo, illustreremo loro quali sono le nostre intenzioni relativamente ai negozi e ai locali, cioè alla parte di attività che sono rappresentate da loro. Non c'è nessuna intenzione di costringere a chiudere prima. Si dice da parte di alcuni ma voi volete introdurre una limitazione invece di intervenire su alcuni le mele marce del cesto. Beh, se sono tutti virtuosi i gestori non avranno nessuna difficoltà ad accedere ad uno schema nel quale si fisso un orario, ma si dice contemporaneamente che se accettano di fare poche cose ma efficaci le azioni positive delle quali ho parlato, gli si dà la deroga. La deroga deve essere uniforme per tutti i quartieri, deve essere gestita dall'amministrazione centralmente per non fare figli e figliastri, ma se tutti sono mossi da intenzioni positive non vedo nessun impedimento alla richiesta e ancor meno all'ottenimento della deroga. Per cui potrebbero in teoria restare aperti tutti per il tempo massimo possibile se accedono a convenire con noi ad azioni positive che fisseremo nell'accordo interdipartimentale, termine orribile, come si chiama tecnicamente, che gli proporremo. Tutto qui, nessuna intenzione restrittiva, nessuna intenzione punitiva verso chi che sia, ci mancherebbe anche questo, la richiesta di un coinvolgimento, di un'assunzione di responsabilità che non può che passare dai singoli. La proposta che le associazioni fanno è una proposta che impegna le associazioni ma non è vincolante per i singoli. Bisognerebbe non scordare mai che le associazioni non rappresentano tutti. Intanto c'è un'associazione di commercianti che non ha aderito alla manifestazione e dunque si vuole rappresentare per conto suo. Vedremo cosa pensa, cosa dirà, però hanno già detto in premessa e non sono tra i proponenti della proposta del documento di intervento di merito che è stato recapitato al sindaco. Poi ci sono operatori, commercianti o gestori di locali che non sono iscritti a nessuna associazione. Lo schema che proponiamo noi è uno schema che porta all'assunzione di responsabilità, a concordare con noi per avere la deroga delle azioni positive. Lo schema che invece sembra piacere ai promotori di questo documento che ci è stato inviato all'esatto opposto. Rimanga tutto come prima, poi chi vuole farà delle cose per aiutare a cambiare la condizione in essere. È un'intenzione che apprezzo, faccio notare che non è efficace perché non sono le associazioni rappresentative di tutti gli operatori e non c'è in un eventuale impegno loro, nessun vincolo per quelli che non si sentono rappresentati o che non sottoscrivono l'intesa che noi proponiamo. Allora, alcune cose sono in verità prive di fondamento. L'idea che noi vogliamo chiudere la città, no. La mia idea è di una Bologna che vive di notte, però c'è un equilibrio dove chi vuole andare in un locale lo può e lo deve fare liberamente rispettando chi invece vuole stare a casa sua e non vorrebbe avere né condizioni di rumore oppure condizioni di degrado, fatemelo chiamare un po' semplicisticamente così, nel luogo dove gli altri frequentano un locale notturno. Di questo si tratta. Io francamente confesso di non aver capito molto quali sono le ragioni di questa indisponibilità al confronto. Mi si dice ma per poche mele marce voi mettete in piedi uno meccanismo che penalizza tutti. Non penalizza nessuno. Le azioni positive che chiederemo di realizzare sono sopportabili, accettabili e praticabili da tutti. Dunque, se tutti sono disponibili, si torna alla condizione generalizzata. Ma c'è un elemento di verifica. C'è una responsabilità che questi gestori devono accettare di mettersi sulle spalle firmando un accordo, non lasciando a nessuno la possibilità di sottrarsi da questa assunzione. Dunque, una città aperta che viva di notte, nel rispetto reciproco, senza condizioni negative per chi che sia. Bisogna provare. Ripetere esattamente la situazione di adesso, in verità, non paga perché avete visto che la situazione di adesso ha provocato tensioni e queste tensioni non si sono risolte. La prima volta che c'è un fatto positivo riconosciuto dagli abitanti è stato con la delibera che abbiamo preso a luglio per la chiusura anticipata dei negozi alimentari e per il divieto di vendita di alcolici sia nei negozi alimentari che in quelli di artigianato, oltre un orario fissato nella determina. Dunque, se abbiamo una sola esperienza alle spalle, comunque questa è a favore della proposta che abbiamo avanzato e che non è stata giudicata praticabile dalle associazioni. Poi, credo che sia buona regola parlarsi con franchezza, assumersi responsabilità, agire ognuno per il suo verso e per quello che ognuno rappresenta. L'idea di confondere la rappresentanza per cui c'è qualcuno che parla a nome di tutti senza aver delega da parte di tutti, non serve. Anzi, non solo un errore, ma produce dei danni. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità, dicevo, anche di raccontare, forse un po' banalmente, questa storia tutta bolognese. La situazione è questa. C'è un confronto in atto, proseguiremo nel confronto con le associazioni che sono rappresentative. Ognuno deve sapere però che ha un segmento di rappresentanza. Non può pensare di rappresentare in verità, né pretendere di rappresentare l'universo mondo. Lo dico per rispetto. L'amministrazione e il sindaco parlano con tutti. Ognuno rappresenta quello che gli è delegato a rappresentare. Non è possibile. È possibile, ma sarebbe un errore introdurre elementi di confusione, così come penso che non torni comodo a nessuno trasformare una discussione su un tema come quello degli orari in una discussione sul profilo della città. Non mi pare pertinente, però decidono di farlo benissimo. L'11 manifesteranno contro l'idea che l'amministrazione ha di città. Il 13 ci vedremo e discuteremo degli orari, perché le cose vanno affrontate con pacatezza, con fermezza per quel che sono nei luoghi e nelle circostanze opportune. Tutto qui. Non vorrei avervi deluso, perché so che si è creata molta aspettativa. Uno dice, ma guardate, alla fine è questo il tema. È esattamente questo. Io penso che si possa cambiare anche profondamente questa città introducendo delle regole e cercando di avere queste regole condivise. Dove non c'è condivisione è legittimo che altri producano contrasto a delle azioni che non condividono. Quello che ho trovato un po' singolare è la decisione di un'azione di contrasto ben prima che fosse scritta la norma che si dice di non condividere. Vuol dire che forse c'è qualche altra ragione, c'è qualche altro intendimento. Non voglio fare il processo delle intenzioni, dunque mi limito a segnalare quella che nella mia esperienza, oramai come si vede dal colore dei capelli comincio ad avere una certa età, non mi era mai capitato di vedere. Però c'è sempre una prima volta, Bologna spesso apre la strada a delle innovazioni anche di procedura, può darsi che questa sia una di queste occasioni. Sì, mi chiamo Paolo Scagliarini, sono coordinatore dei locali serali aderenti a Confesercenti, abbiamo avuto oggi l'ennesimo incontro col sindaco, evidentemente ci sono delle incomprensioni soprattutto sulla definizione dei locali virtuosi perché è una parola molto generica che si fa fatica riempire di contenuti. Quello che chiediamo è di poter risolvere i problemi di questa città insieme e non essere colpevolizzati e colpiti solo e soltanto noi per comportamenti che non dipendono purtroppo dalla nostra volontà, dipendono dai costumi dei giovani, dagli orari, dalle abitudini che sono cambiate. Quindi se si deciderà di intraprendere questa via noi saremmo più che disponibili, se altrimenti si deciderà di attribuire qualsiasi colpa al locale tra virgolette cattivo, non virtuoso, a quel punto non si risolveranno i problemi perché la gente starà in strada anziché stare nei nostri locali e si sarà solo trovato un capo espriatorio. A partire dalla fine del mese di ottobre, insieme a degli assessori, poi decideremo quartiere per quartiere quali sono quelli più interessati, farò il giro con gli incontri che vi avevo detto durante la campagna elettorale avrei fatto ad un certo punto. Arriviamo verso la metà del mandato e io penso che sia indispensabile rifare con i cittadini, a questo punto con i consigli di quartiere e con le associazioni che vorranno partecipare, degli incontri in ogni singolo quartiere. Sono nove quartieri, cominceremo dalla fine del mese di ottobre e per questo dicevo prima, sovrapponendomi ad uno di voi, torno. Questa sera abbiamo scelto, ha scelto l'Arci e dunque io a quello mi sono adeguato un argomento, non è che gli altri li abbiamo cancellati o non ci sono. Faremo gli incontri che mi ero impegnato a fare a partire dalla seconda metà del mese di ottobre. Invece per tornare al tema di questa sera, rispondendo qualche osservazione, perdonatemi se vi ridico alcune cose che avevo detto ma che forse non sono state nella mia esposizione abbastanza chiare. In una città tocca al sindaco, non agli assessori, al sindaco gestire gli orari. Il responsabile degli orari della città è il sindaco, lo prevede la legge, dunque non vi sembri strano se sono qui io, non c'è l'assessore al commercio, no. Il responsabile degli orari della città è il sindaco. Il provvedimento che stiamo scrivendo non riguarda questa o quella parte della città, riguarda tutta la città. Dunque non c'è un problema che riguarda il centro storico e non riguarda le periferie. Tutti saranno interessati, i locali, le attività artigianali, i negozi, dal provvedimento che verrà varato. Il provvedimento sarà unico, conterrà le norme che riguardano le attività artigianali, i negozi commerciali e i locali pubblici. Discuto separatamente con i miei interlocutori perché una gelateria è diversa da un pub. Adesso, perdonatemi se la dico un po' rozzamente così, il gelataio è associato agli artigiani, il locale pubblico se è associato, è associato ai commercianti. E io penso che sia sbagliato che gli artigiani si occupino delle attività commerciali e viceversa. La distinzione di ruoli e di funzioni secondo me è importante e vale la pena di rispettarla. Secondo aspetto, è evidente che il tema orari non è percepito dalla città allo stesso modo. Ci sono zone della città nella quale l'equilibrio tra chi vuole dormire e chi vuole andare al pub è più delicato, più difficile perché c'è una concentrazione di locali e dunque di clienti, di utenti molto più forte. Storicamente è il centro della città che ha questo problema in forma più massiccia e rilevante delle periferie, anche se poi chi abita di sopra ad un pub o un locale, c'è il suo problema. Ora io credo che l'amministrazione debba anche pensare alle iniziative utili a cambiare la città nel futuro. Non ci sono solo le cose che servono il prossimo mese. L'orientamento è quello di varare il provvedimento nella seconda metà del mese di ottobre. Fatti tutti gli incontri che stiamo facendo, scriveremo il provvedimento, riconvocheremo le associazioni, i sindacati, le associazioni che rappresentano i locali, i sindacati e le associazioni dei consumatori e poi lo vareremo. Le riconvocheremo con il testo scritto perché questo è previsto dalla legge e io non ho nessuna intenzione di violare la legge, saremo un po' curioso, parlare molto di legalità e poi non rispettare la legge. Nel mentre stiamo facendo gli incontri che vi ho detto. Il provvedimento dunque dovrebbe esserci già a partire dalla seconda metà di ottobre. Ci sono azioni però che vanno pensate per tempo dall'amministrazione e attuate. Ad esempio per quanto riguarda il centro noi spenderemo nei prossimi tre anni sei milioni e mezzo di euro per cercare di cambiare le attività commerciali del centro. C'è un progetto di trasformazione. Per descriverlo un po' sommariamente, cos'è capitato in questi anni? Che molte attività si sono concentrate in alcune vie, in alcune piazze. Perché le amministrazioni colpevolmente non hanno selezionato le licenze. Allora ti trovi con intere vie dove c'è un bar, un ristorante, un ristorante, un'osteria, un bar, un take away. Non c'è altro che attività di questa natura. Io penso che questa concentrazione produca dei problemi e dunque penso sia utile, ad esempio, se in un luogo così congestionato chiude un bar, non ridare la licenza ad un altro bar. Valutare un attimo se è utile dare la licenza ad un altro bar oppure dire no ed eventualmente favorire un insediamento di altra natura. si chiama rarefazione. È togliere dove è possibile, però non sono io che posso chiudere un locale, ma aspetto che si chiuda e a quel punto deciderò se far riaprire un locale oppure dare una licenza ad altra attività. Il processo è indispensabile, non si fa in qualche mese, perché l'amministrazione non può e non deve essere lei a procedere, a costringere o a condizionare le attività che devono essere libere e però l'amministrazione può scegliere quando queste attività cessano. Credo che ad esempio la trasformazione di una parte della città produrrà degli effetti benefici. Voi sapete che abbiamo un progetto che riguarda la zona di Bertalia-Lazzaretto. Verranno trasferite lì delle facoltà dell'università, ma non verranno insediate lì soltanto le facoltà. Intorno alle facoltà faremo appartamenti per gli studenti, daremo licenze per attività commerciali in modo tale che una zona vuota della città e degradata, sono cave e prati oggi, si riempia. Io penso che quando lì ci andranno le attività universitarie e i ragazzi avranno lì la loro casa, è probabile, non certo, ma è probabile che cercheranno di andare in un pub lì e non torneranno in Piazza Verdi o dintorni. Poi nessuno li costringerà, però bisogna offrirgli una condizione diversa da quella attuale. Anche questo è un progetto, lo stiamo realizzando, ci vorrà il tempo che ci vorrà, qualche anno. Ve lo dico perché nei processi di trasformazione non si può guardare soltanto a quello che serve oggi, bisogna cercare di traguardare le condizioni di una città anche un pochino più in avanti. Bene, nel mentre però non è che le cose possono restare ferme. Ho detto, ci sono delle azioni necessarie. serve una regola sugli orari. Poi concordo con chi l'ha detto, non mi ricordo più, che il tema degli orari in una città non si riduce ai negozi e ai locali. È un tema complessivo, bisogna produrre un mosaico, però ogni tessera deve incastrarsi con l'altro. Nel fare questo provvedimento cos'è che dobbiamo risolvere? Trovare per tutta la città quel punto di equilibrio del quale abbiamo lungamente parlato e però adesso è arrivato il momento di provare a sperimentare. Le intenzioni dell'amministrazione sono quelle che vi ho provato a descrivere prima. Di mio non penso che a Bologna si debbano chiudere locali notturni. Penso che bisogna lavorare per trasferirne, per favorire il trasferimento di alcune di queste attività in zone meno congestionate. Ma non che dobbiamo rinunciare a quella che storicamente è una delle caratteristiche di Bologna. Mai pensato che occorra fare azioni di contenimento o di riduzione. Peraltro la città è cambiata. Vent'anni fa i ragazzi, gli studenti fuori sede erano 3-4 mila, oggi sono 40 mila. Abbiamo dei cittadini che non sono residenti qui ma vivono qui per 10-11 mesi del loro tempo in un anno. Sono una risorsa per noi, non dobbiamo considerarli un problema. Si tratta di rispondere anche ad alcune loro esigenze facendo sì che queste esigenze però non entrino in conflitto con quelle dei residenti che invece hanno a volte bisogni diversi. Lo so anch'io che non è facile, se no non saremo qui a parlare. Però questo è il problema. Come abbiamo pensato di agire? Così come vi ho detto. Ma aggiungo che adesso siamo agli orari, lo dico a Scagliarini perché vorrei che fossimo chiari, lo dice il sindaco non l'assessore, a futura memoria. A gennaio, finito il tema degli orari, ritorniamo sul regolamento. Quello che lui non vi ha detto ma che vi anticipo io perché sarà un altro elemento di discussione e presumo anche di polemica è che siccome è cambiata l'attività commerciale nei locali notturni bisogna produrre un regolamento che introduca le differenze del caso perché se in un locale si suona, si fa musica e se in quel locale nell'arco della serata vanno più di x persone come prevede la legge nazionale e come io deciderò di applicare, quel locale deve avere delle condizioni precise, bagni, insonorizzazione, uscite di sicurezza perché le condizioni che vi ha anticipato l'assessore Sant'Andrea sono queste. A gennaio di questo parliamo e per quanto riguarda il sindaco, lo dico adesso per non doverlo ripetere poi, non ci saranno in quel caso deroghe per quanto riguarda ad esempio la sicurezza alla legge nazionale, chi non è in regola si deve mettere in regola se ci sarà qualcuno in queste condizioni perché sono temi delicatissimi con i quali non si può scherzare, io voglio che i ragazzi vadano nei locali a sentire la musica tutte le volte che desiderano, non voglio per mio figlio come per nessuno che questo comporti qualche pericolo, non è argomento di discussione adesso, a gennaio torniamo lì, si sappia perché non si può avere una situazione non regolata, non definita, ci saranno problemi, vedremo, li affronteremo pacatamente e li risolveremo, per intanto siamo agli orari. Allora intanto togliamo di mezzo delle leggende metropolitane che possono servire a portare tre persone in più a una manifestazione, ma poi il tempo è galantuomo, le bugie hanno le gambe corte eccetera eccetera, la saggezza popolare ci fornisce di tanti proverbi. Ci sarà un provvedimento? Il controllo compete a noi, non è che se un giorno una signora, quella signora là, legittimamente telefona in comune e dice quelli che stanno sotto fanno casino, il comune chiude il locale sotto, no, no, potete propagare questa idea, è assolutamente prima di fondamento, non serve a nulla, i controlli li farà come sempre l'amministrazione e le sanzioni saranno quelle previste dalla legge, non ne inventiamo di nuovo, quelle previste dalla legge e la responsabilità dei controlli è nostra, però se mi si dice applica il regolamento urbano, ho bisogno dell'autorizzazione del timbro di qualcuno, lo faccio da me, lo faccio da me, senza bisogno e sarebbe grave se non lo facessi, senza bisogno dell'autorizzazione di chi che sia. Quello che abbiamo proposto alle associazioni è una cosa in più, individuiamo insieme delle azioni positive che consentano di risolvere quei problemi, andando due dita in là dal regolamento urbano, perché lì se c'è un problema viene segnalato, verranno i vigili, peraltro bisognerebbe imparare, cosa che non c'è in verità sufficientemente diffusa, anche a selezionare chi bisogna coinvolgere, perché se c'è uno che ti punta un coltello, non chiami il vigile, devi chiamare la polizia. Voglio dire che ho sentito nel corso di questi mesi spesso lamentere dovute al fatto che ci si rivolge ai soggetti sbagliati, poi il soggetto coinvolto deve essere in grado, anzi deve intervenire ed essere in grado di risolvere il problema. Ma chiuso questa parentesi, i controlli devono essere fatti da chi ha il potere per farli, non ci sono semplificazioni né men che meno intenzioni punitive, perché può essere, non la signora, ma un'altra persona, che ci segnala un problema che non esiste, oppure che non ha le caratteristiche le dimensioni che quella persona soggettivamente avverte. Non si chiude un locale, perché una persona ha la sensazione che ci sia del rumore se quel rumore non è verificato. Ci sono i soggetti e gli strumenti per verificarlo. Dunque quelli vengono usati, non il parere soggettivo di uno. Lo dico a garanzia di tutti, di chi non vuole avere dei locali fracassoni, come si dice, sotto casa, esattamente da come chi gestisce un locale magari fa degli sforzi rilevanti per non fracassare alcunché e si sente punito perché nell'immaginario collettivo si è creato un clima, una convinzione, che non risponde a delle valutazioni rigorose, anche di carattere scientifico, perché il rumore lo misura l'ARPA, non lo misuro io. Dunque viene l'ARPA con i suoi strumenti e decide se rientra nei limiti previsti dalla legge oppure no. Siate sereni, non c'è nessuna intenzione punitiva, non c'è nessuna azione volta a impedire a chi gestisce un'attività di farlo, esattamente come non c'è nessuna intenzione di impedire a chi vuole andare in un locale pubblico di scegliere quando e come. Qual è il problema? Allora, parliamo per un attimo dei negozi, sia quelli di produzione artigianale che gli altri. Se questi negozi, come capita a Bologna, non, per carità, non fate paragoni tra Bologna e altre città europee, perché scoprireste che nelle altre città europee che vengono spesse prese a riferimento, le condizioni sono enormemente più restrittive di Bologna. Che cosa succede a Bologna? Che in locali, che sono in locali, scusate, in negozi che hanno una licenza, a volte questa licenza viene arricchita da vendite improprie e lì occorre intervenire, non ci sarebbe bisogno neanche dell'ordinanza. Poi alcuni di questi locali vendono, come ho detto prima, alcol in bottiglia, bibite in bottiglia, bibite in lattina per asporto. Qual è la pratica diffusa? Di persone, non chiamiamoli soltanto giovani, che vanno in quel locale, comprano da bere, a mezzanotte, perché il locale è aperto, bevono in strada, lasciano lì la bottiglia. Adesso non è che ci vuole poi chissà quale abilità, basta il linguaggio normale per descrivere il fenomeno. Questa cosa non può durare, perché quando quei ragazzi o quelle persone bevono molto, si creano dei problemi, sono stati ricordati anche problemi igienici, del tutto naturali, e si creano spesso dei problemi di altra natura, perché quando si passa il limite si diventa un po' più rumorosi, se non addirittura litigiosi. Il vetro e le lattine rappresentano un pericolo, perché sono corpi contundenti, nessuno vuole impedire ad un ragazzo di bere la birra. Tra l'altro siamo di fronte ad alcune abitudini che sono delle mode, come sapete. Cosa c'è di più sgradevole di una birra calda? Niente. Eppure ci sono ragazzi o persone che comprano la birra, girano con la bottiglia per ore, salvo poi abbandonarla, a volte neanche del tutto svuotata, da qualche parte. Io capisco che bisogna agire anche sugli stili di vita, sul modo con il quale le persone si comportano, però un'amministrazione deve cercare di evitare che ci sia bevande d'asporto che escono da quei negozi sopra una certa ora. Le 10 mi pare un orario assolutamente ragionevole, non stiamo contrariamente a quello che hanno detto alcuni togliendo a questi negozi la possibilità di lavorare, ma dove? Uno resta aperto, poi se c'è qualcuno che vuole chiudere prima lo faccia lui, io devo fissare gli orari massimi e la soglia del divieto. Ecco, abbiamo detto, una gelateria può restare aperta tutto il giorno, una pizza al taglio può restare aperta 24 ore su 24, lo dice la legge, e io non glielo voglio impedire, non penso che qui dobbiamo restringere la legge. Quello che non vorrei a Bologna è che da quella pizzeria o da quella gelateria se ha avuto in precedenza la licenza per poterlo fare, il permesso per poterlo fare, escano bottiglie di vetro dopo le 10. Tutto qui. Per quanto riguarda i locali, io chiedo ai gestori dei locali dei comportamenti positivi che aiutano anche l'amministrazione ad affrontare e a risolvere l'esigenza dell'equilibrio. Io lo so che ci sono tanti locali che si comportano secondo la regola. Guai se non fosse così, però se è vero quello che dite voi, cioè che ci sono poche mele marce, l'ipotesi che vi prospettiamo è di gran lunga la migliore. Venga la mela marcia a firmare la richiesta di deroga, la deroga deve essere una, non è che non la assegniamo ai quartieri perché non vogliamo far lavorare i quartieri, ma perché vogliamo evitare che la deroga di San Vitale sia diversa da quella di Borgo Panigaro. Allora l'unico modo è avere un solo provvedimento gestito centralmente. Se poi si accetteranno condizioni che vedrete sono condizioni, saranno condizioni di buonsenso, di aiuto reciproco, la deroga ci sarà, il controllo lo faremo noi, non altri, sulla base delle decisioni che autonomamente l'amministrazione deve prendere. Non è che andiamo soltanto dove ci viene segnalato l'eventuale esistenza di un problema. Quando abbiamo fatto questa ordinanza a luglio, che è durata luglio, agosto e settembre, abbiamo fatto a tappeto molti controlli. Devo dire che la quasi totalità di questi controlli ha dato esito negativo e io sono il primo ad essere contento. Non è che cercavo dei locali ai quali fare la multa. Se si comportano secondo la regola, l'amministrazione non può che essere felice di tutto ciò. Io credo dunque che sia possibile, serenamente, fissare un orario, ma non per costringere nessuno. Nessuno vuole costringermi. Avremmo voluto decidere con voi le condizioni della deroga. avete deciso che non è il caso. Bene, non c'è un problema di metodo relativamente a questo aspetto. Faremo la discussione con voi quando sarete convocati. Lo schema che vi riconfermo stasera, che vi riconfermerò l'incontro è questo. Un orario, io non ho mai parlato neanche di numeri, ho detto sempre un orario, la possibilità di restare aperti più a lungo se si concorda poche, ma efficaci, azioni positive che permettono alla signora di non avere più l'opinione che ha, ad esempio, del locale che ha sotto caso. Non mi pare né stravolgere alcunché né introdurre condizioni restrittive che sono, come posso dire, mirate a violare la libertà di impresa. poi, però, fatemi dire un'ultima cosa perché io insisto, quello dell'Undice è una manifestazione politica. Caro Scagliarini, lei non mi convince. Avrà votato per me, la volta prossima decida liberamente per chi votare, non si faccia velo, ma quella è una manifestazione politica e le spiego perché. Voi potete rivolgervi ai vostri utenti, i clienti dei vostri locali, però, nelle locandine che sono state affisse e che promuovono la manifestazione, Confesercenti e Dascom non parlano della delibera sugli orari, parlano di Deor. Per i Deor ci sarà un regolamento definito, c'è stata una soluzione transitoria, ci sarà un regolamento definito perché anche i Deor devono avere condizioni precise. Vorrei dire a proposito di chi dice dentro il mio locale faccio cose virtuose, non ho dubbi, però se volete i Deor le cose virtuose poi bisogna farle anche fuori dal locale, dove c'è il Deor. Non è che c'è una separazione, dentro sono bravo, fuori succede a quel che succede. Bisogna avere lo stesso comportamento ovunque. Ci sarà un provvedimento sui Deor perché anche lì abbiamo un impegno, lo rispetteremo. il tema che avete contestato è quello degli orari. Beh, insomma, voi nel volantino con il quale promuovete la manifestazione avete messo tutto. Lo stile di vita, i Deor, la pulizia, Sirio, Rita, i parenti... Per favore. Sì, ho capito, ho capito. Eh? Perché lo dico? Perché i tuoi rappresentanti usciti da quell'incontro hanno detto che con l'amministrazione non sono in grado di discutere per cento ragioni e hanno elencato anche Sirio. Perfetto. Le ragioni della manifestazione sono il degrado, la pulizia, i Deor, gli orari, lo stile di vita e il modello di città. Ce n'è quanto basta per due partiti, non per uno. Poi, sai qual è il problema? Ah, finalmente, è una cosa che abbiamo fatto buona. Sai qual è il problema? Te lo descrivo semplicemente. Allora, l'incontro che ha prodotto la vostra irritazione legittima si è concluso con una dichiarazione pubblica delle due associazioni Ascome e Confesercenti di convocazione di una conferenza stampa per annunciare iniziative di contrasto alle intenzioni, perché non c'è carta, dell'amministrazione. Il sindaco vi ha detto che vi avrebbe convocato il 22 e ve lo ha detto due giorni prima della conferenza stampa. Voi avete fatto la conferenza stampa e avete annunciato la manifestazione. In un paese normale si fa così. Sono convocato il 22 il 23 decido che cosa fare sulla base di quello che mi viene detto il 22. Voi avete deciso a prescindere. No, come non è vero? Come non è vero? No, no, spiegami perché non è vero. Spiego subito perché il giorno dopo l'incontro il 6 settembre l'amministrazione, lei e l'assessore Sant'Atrella siete usciti con le dichiarazioni che dicevano questo con le associazioni non è possibile tracciare andiamo avanti per la nostra strada. E subito dopo noi abbiamo... Te lo confermo se voi non siete disponibili a discutere con noi non è che il sindaco non fa il provvedimento il provvedimento lo fa il provvedimento non c'è ancora non è scritto e come ti diceva prima una persona di buon senso voi fate il processo alle intenzioni ma ci sarà ti aggiungo che siccome lo prevede la legge verrete convocati prima che il provvedimento venga reso operativo non soltanto il 13 vi convoco ma anche dopo perché il 13 non ci sarà ancora il testo vi ascolto il 13 vi dico cosa penso io ascolto le vostre opinioni e poi vi riconvoco successivamente al 13 il 14 avrete un argomento che oggi non c'è che è la definizione sufficientemente precisa di cosa intende fare l'amministrazione in un sistema di rapporti normali quando il sindaco convoca delle associazioni per il giorno 22 quelle associazioni vanno all'incontro e il 23 decidono di fare il casino più grande perché sanno cosa vuole fare l'amministrazione se decidono prima hanno un'altra intenzione voi avete deciso prima avete deciso prima in un sistema di rapporti normali si aspettava il 23 non mi scandalizza è legittimo che lo facciate però ognuno si deve assumere le sue responsabilità dopodiché è per rispetto a quello che fate voi che è nato così a questa elementare procedura per rispetto a quello che fate voi io vi ho convocato il 13 io non voglio interferire con la manifestazione non voglio che sia più grande o più piccola di quello che potrebbe essere no l'avete decisa la fate serenamente sarà quel che sarà io vi incontro dopo e non mi si può scrivere come avete fatto immaginando una risposta positiva convocaci prima ritirate la manifestazione e vi convoco prima se c'è la manifestazione io rispetto la vostra decisione e vi convoco il giorno dopo non mi pare di dire delle cose singolari sono cose di elementare buonsenso di rispetto reciproco poi insisto non ho capito perché di fronte all'annuncio della convocazione del 22 due giorni dopo abbiate deciso la manifestazione dell'uno sono da uova e da latte sto ah si la manifestazione l'ho convocata io l'ho convocata io io ho detto che ho detto e ti ripeto che di fronte al fatto che voi non siete interessati a discutere con noi l'amministrazione mica abdica il sindaco non può mica andare a vivere in l'ictestai no e qui deve decidere perché ha ricevuto mandato dai cittadini per decidere poi comportatemi come vi pare a me pare che vi siate messi in una condizione legittima ma un po' complicata da gestire dopodiché siccome il mondo cammina va avanti il 13 ci vedremo sarà stato prima quel che sarà stato discuteremo serenamente delle cose che l'amministrazione intende fare lì ci presenterete le vostre osservazioni vi riconvoco dopo il 13 presumibilmente qualche giorno dopo per rispetto della legge che tendo attuare in tutti i suoi più piccoli rimandi e poi dopo sarà quel che che decideremo però non se ne abbia male non ho mai visto in vita mia un comportamento di questa natura mai e siccome ho passato qualche settimana a fare il mestiere di organizzatore insomma in una discussione non dico trattativa perché il termine è improprio in una discussione di quelle che ho fatto per 30 anni non mi era mai capitato quello che mi è successo a Bologna l'ho detto a volte c'è sempre un primo momento vediamo ci sarà anche il giorno dopo perché siamo